Dopo l'eliminazione a sorpresa del nonno, questa settimana un'altra eliminazione, decidi tu chi può eliminare tra Pernacchietta, la gatta, Pulcinella, Andrella. Pernacchietta, eletta misterallo a Manfredonia, arrivata terza al concorso mi scappa la pipì, rossorizzato da pannochiappa Nuvelia. Di lei dicono, ha più culo che anima, e si vede. La gatta, l'uomo dal fascino segreto, nessuna donna gli esiste, fugge dopo due minuti. Il suo fascino è così segreto, che nemmeno l'usa di averlo. Pulcinella, la vera donna partenopea della casa, Sofia Loren in confronto sembra milanese, tutti gli uomini cadono ai suoi piedi, sarà l'alito o le fregnacce che dice? Andrella, poche idee e molto confuse, che riceve le sue mail si domanda, ma è Andrea o è Isabella che mi scrive, ma? Un uomo due facce, entrambe come il culo. Chama il 637 o invia un'email, al costo di un euro potrei dare la tua preferenza. I soldi raccolti serviranno a Vittorio per pagarsi un altro viaggio in Giappone. Eliminali ora, non attendere più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.